E' un atto illegittimo. Con queste parole il deputato regionale del PDL, Vincenzo Vinciullo, nella sala stampa dell'Ars, dove ha convocato i giornalisti per commentare la sua espulsione dal partito, ha deciso di attaccare i vertici locali del PDL. Nei giorni scorsi al deputato regionale è stato notificato il provvedimento di espulsione con un semplice comunicato stampa, con la motivazione di aver tradito il PDL non sostenendo il candidato a sindaco di Siracusa e di Bandiera, ma di appoggiare Ezechia Paolo Reale, candidato indipendente sostenuto da cinque liste civiche e uomo più volte indicato dal PDL come assessore tecnico dell'Aggiunta Buffardesi. Il comunicato inoltre contiene delle menzogne terribili. Dice che è stato il coordinamento provinciale a sollecitare il provvedimento, ma il coordinamento provinciale nonostante io lo chiedo da me se non si riunisce dal luglio del 2012, è dove io ho una maggioranza importante. All'interno del coordinamento provinciale siedono ancora esponenti ex Forza Italia che oggi sono candidato a sindaco con Crocetta, con il megafono. Altra cosa, si parla di un coordinamento regionale che avevo richiesto questo provvedimento, ma noi nel coordinamento regionale non abbiamo mai discusso di questo argomento, ah semmai abbiamo fatto un altro ragionamento. Avevamo detto che i coordinatori regionali dovevano venire a Siracusa per costringere i coordinatori del posto a convocare la direzione provinciale dal momento che su numerosi articoli apparsi sui giornali il coordinatore e il vice coordinatore asserivano che non avrebbero mai convocato la direzione provinciale, cose che non hanno fatto. Mi chiedevano di sostenere un candidato a sindaco che come ho dimostrato voi ancora oggi a qualche giorno dalle elezioni si vergogna di mettere il simbolo del PDL sui suoi manifesti, perché questo candidato intanto è il segretario provinciale dell'Udc, uno che nei mesi scorsi è stato candidato alla regione contro Musumeci e alle nazionali contro Berlusconi, uno che era il vice sindaco indicato dalla coalizione di centro-sinistra e come un famoso salto della buffa o della guaglia è diventato il sindaco della coalizione del centro-destra. E del resto un candidato a sindaco non si trova per strada. Un candidato a sindaco si forma, si crea. Un partito, fra altre cose, che in provincia di Siracusa su sette comuni dove si vota ha presentato la lista solo a Siracusa. Un partito ridotto a Lumicino, un partito che alle regionali del 2008 aveva preso quasi 68 mila voti, che a queste regionali ne ha presi 13 mila e nella nostra provincia è allo sbando perché lo dimostra il fatto che, ripeto, su sette comuni si è fatto lista solo nella città di Siracusa. Grazie a tutti.